Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Monete di Valore, il canale YouTube collegato al sito internet www.monetidivalore.it In questo video vi mostrerò come è fatta l'oncia d'argento dedicata a Ryu di Street Fighter Uno dei personaggi dei videogiochi più famosi degli anni 90 Ma Street Fighter è anche un videogioco che si gioca attualmente sulle varie console Però per chi come me negli anni 90 frequentava le sale giochi sicuramente è un titolo a cui avrete giocato, sono sicuro Bene, questo è Ryu, uno dei protagonisti del videogames che era marchiato Capcom La moneta è un'oncia in argento puro coniata dalla Pert Mint che è la zecca australiana per conto di Tuvalu Che è una delle isole che si trova nelle parti dell'Australia E fa molto spesso delle once su personaggi particolari In questo caso ad esempio c'è Ryu di Street Fighter Non so ancora se questa è la prima moneta di una serie particolare che magari sarà dedicata a Street Fighter Come ad esempio ci sono le once della Marvel che sono dedicate a diversi personaggi Non so se ci sarà una serie dedicata anche sui vari personaggi di Street Fighter In ogni caso questa è la prima di questa ipotetica serie È una moneta in edizione limitata, esistono solo 15.000 esemplari E secondo me è davvero fatta molto molto bene I riflessi sono bellissimi E cosa dire? Possiamo dire che trattandosi di un once in argento abbiamo 31,10 grammi in argento puro Quindi abbiamo già un valore di base che va oltre i 20 euro Per quello che riguarda il valore collezionistico però di questa moneta Essendo coniata in tiratura limitata Logicamente non può valere a peso Ma ha un suo valore Ad oggi il valore di mercato di questa moneta si aggira tra i 40 e i 42 euro Quindi se siete interessati ad acquistare questa moneta Il prezzo di mercato attualmente si aggira tra i 40 e i 42 euro Non la troverete a meno Proprio perché è una moneta da collezione Probabilmente se domani dovessero uscire ulteriori monete di questa serie Sicuramente il suo valore aumenterà Perché? Dico questo perché è successa la stessa cosa con la serie della Marvel Il primo personaggio uscito era Spider-Man Poi sono usciti tutti gli altri E adesso Spider-Man costa 6 volte in più delle altre monete uscite successivamente E' una cosa che accade spesso questa Dove la prima moneta di ogni serie Ha un valore molto molto superiore rispetto a tutte le altre Quindi se questa moneta vi piace Vi invito ad acquistarla Prima che sia troppo tardi Se il video ti è piaciuto clicca un bel mi piace Se non sei ancora iscritto al mio canale Iscriviti al canale Monete di Valore Se vuoi seguirmi anche su Telegram Troverai il link al canale in descrizione Non mi resta che augurarti una buona giornata E buon collezionismo Un saluto a tutti Ciao